perfetto siamo in diretta salve a tutti grandi appassionati di cinema e non io sono di andry cinema 98 e bentornati in questa nuova diretta stavolta qui abbiamo un ospite speciale questa è un'intervista ragazzi miei quanto tempo è che non facevo interviste nel mio canale qui stiamo parlando di un doppiatore ormai diventato iconico stiamo parlando della voce di batman stiamo parlando di optimus priming transformers stiamo parlando di shoo in canning guerriero ma non solo serie d'animazione parliamo anche di prodotti televisivi avete mai visto ned scuola di sopravvivenza bene era la voce del vicepreside fissato con le sue manie di poliziotto il protagonista della mini serie tv la tempesta del secolo scritta da steven king il grandissimo scrittore ma non solo e anche doppiato il candidato all'oscar vigo monderson in america jacuzza e anche e anche un boss mafioso nel live action del punisher il vendicatore il personaggio della marvel lui era l'antagonista era sempre la sua voce ragazzi stiamo parlando del mitico marco banzarotti ma hai elencato delle cose che non mi ricordavo neppure io ben ragazzi io sono felicissimo che il signor marco banzarotti abbia accettato che è vero io guardate che mi sono anche trattenuto perché ha fatto un sacco un sacco di roba veramente qui ero veramente indeciso sulle domande da fare ringrazio subito per aver deciso di partecipare qua grazie a te sei pronto con le domande sono pronto spara perfetto allora iniziamo riscaldarci con una domanda abbastanza scontata ma che ci tenevo comunque a fare quali sono i personaggi che più hai amato a doppiare guarda posso essere scontato tutti nel senso che mi diverto sia dal dal più grande al più piccolo al cammino nel film nella serie tv è sempre una sfida per cui è un divertimento comunque poi vabbè mi si ricorda per batman per ottimus prime per sirio il dragone a tra gli attori c'è anche james woods che ho doppiato in olocausto con mary street o anche christopher reeve nei racconti della critta però è un divertimento una sfida ogni volta per cui tutti direi guarda veramente ah bene questo rende ancora più piacevole il lavoro e per quanto riguarda quindi la seconda domanda che si riferisce al tuo personaggio ormai più famoso che è batman batman negli anni ha avuto numerose versioni anche nel campo dell'animazione dove tu hai interpretato nella maggior parte delle volte tu hai sostituito anche la lingua originale di un attore iconico dell'uomo pipistrello nel cinema live action nel film d'animazione batman il ritorno del crociato incappucciato tu doppi la versione di adam west doppiata proprio da quest'ultimo pochi anni prima che ci lasciasse per omaggiare la serie tv ed il film degli anni 60 a differenza degli altri batman qui si sta parlando di una versione del personaggio molto comica che impressione ti ha fatto doppiare un batman così camp allora intanto sai che io non me lo ricordo benissimo che di che periodo era che anni era beh il film del mi sembra che sia del 2016 poi non voglio sbagliare se qualcuno nei commenti può indicare lo dica e sai quello con la musica nana 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 con robin parecchio comico degli anni 70 se non sbaglio 60 60 60 niente bene lo so che sembra ripetitivo ma mi adatto nel senso che il batman che ho fatto in batman e jack cross quartatore per dire diverso da questo è diverso da quello dei leggo però ti adatti ogni volta per cui è è una sfida e comunque o una gioia anche cercare di trovare la chiave per quella cosa lì non è così strano magari come uno lo può percepire da fuori mi capisci cosa voglio dire sì tu ti fa il tuo quello che ha fatto la voce originale l'attore originale eccetera lo interiorizzi e lo rimotti fuori e quando uno è bravo come bravo adam west viene ancora più facile capisco e tu hai detto che quindi ti adatti questa cosa si collega alla terza domanda qui si tratta proprio di tuo gusto personale tu quale preferi quali tipo di batman preferisci doppiare cioè un batman colorato che si possa adattare ad un pubblico di famiglie o un batman molto oscuro e dark come per esempio il batman dei videogiochi di arkham inoltre cosa pensi delle numerose evoluzioni che il personaggio ha avuto negli anni allora guarda la verità vera quelli che mi hanno più divertito sono stati nelle serie animale i primi primi primissimi notturni con questi disegni anni 50 anche i videogiochi non mi fanno impazzire queste deviazioni verso le tartarughe ninja queste cose un po per attirare quasi il pubblico dei più piccoli ma va bene comunque poi alla fin fine dicevo poi quello che c'è si fa e lo si fa col massimo impegno se dovessi per forza scegliere direi appunto i primissimi che se non sbaglio erano prodotti da Steven Spielberg e comunque il batman dei videogiochi bene bene questa è una cosa molto interessante che poi si collega ad un'altra parte del personaggio che sarà anche l'ultima domanda ma prima di farti l'ultima domanda sul personaggio di Batman un nostro spettatore ha confermato che la data del film d'animazione con Adam West del 2016 e ci saluta il regista Fabrizio Lamonica sta dicendo vi sto ascoltando ciao ragazzi che bel regalo salutamelo anche tu anzi lo saluto io direttamente ciao Fabrizio perfetto perfetto e allora concentriamoci adesso sull'ultima domanda sull'uomo pipistrello ci sono tanti film d'animazione sul personaggio che in Italia a differenza di tutti gli altri paesi non sono arrivati parliamo di film come il ritorno del cavallero scuro tratto dalla grandissima opera di Frank Miller, Batman, Bad Blood, The Killing Joke tutti basati su opere amatissime ma evitate dalle distribuzioni nostrane perché sono violente e destinate ad un pubblico maturo mentre film colorati come Batman Ninja arrivano in Italia senza problemi tu cosa pensi di questa mentalità dei distributori? la censura non mi piace in generale non essendo addentro alle cose come te o come quelli che ne sanno posso solo sparare dei giudizi a bambera dico solo peccato fossero arrivati in Italia uno se non altro può scegliere se vederli o se non vederli bloccarli fin dall'inizio non è nella mia mentalità non mi sembra una cosa giusta comunque anche perché noi in Italia siamo l'unico paese a farlo perché tutti gli altri paesi ce li hanno tranquillamente tu sei anche parte di una delle saghe cinematografiche più famose del mondo hai infatti prestato la voce a quattro film della saga di Godzilla degli anni 80 e degli anni 90 ti fai a rispolverare delle cose che io ho dei cassetti della memoria che sono chiusi da vent'anni che anni sono questi hai detto? beh questi sono i... no oddio sono degli anni 80 e 90 ma da noi sono arrivati a fine anni 90 e si sta parlando di il ritorno di Godzilla, Godzilla contro Violante, Godzilla contro King Ghidorah e Godzilla contro Motra che ricordo hai di questa esperienza e che cosa pensi del fatto che anche tu sei un piccolo tassello del mondo legato al celebre mostro gigante? ho il ricordo che ti ho spoilerato prima che non mi ricordavo più di averli fatti per cui è una piacevole sorpresa adesso anche per me effettivamente se ci penso mi ricordo e mi ricordo anche la società in cui li ho fatti l'allora ATM se non sbaglio, società di doppiaggio che non c'è più ma me li ero completamente dimenticati perdonatemi io sono fatto così sono un disastro nel senso che sono concentratissimo quando sono a microfono, quando sono davanti allo schermo e poi dopo dieci minuti ho la capacità di dimenticarmi quello che ho fatto beh, non fa niente, non sei il primo a rispondere così ci sono diversi doppiatori che magari proprio per la gigantesca mole non si ricordano determinati titoli, non ti preoccupare però a questa cosa mi voglio collegare a un'operazione che è tipica nelle parti del doppiaggio tu ed altri tuoi colleghi avete doppiato un personaggio diverso per ogni film di Godzilla cioè tu hai fatto quattro film di Godzilla ognuno di questi doppiavi un personaggio diverso ecco, cosa fatta probabilmente per risparmiare sui costi si parla di film che sono stati distribuiti in tempi brevi anche perché sono arrivati in Italia in ritardo rispetto ad altri paesi tu cosa pensi di queste operazioni? pensi che doppiare più personaggi in un'unica opera a distanza di poco tempo possa incidere sul prodotto positivamente o negativamente? assolutamente no, di sicuro l'hai detto tu è un'operazione che di solito viene fatta per risparmiare sui costi sarebbe meglio non farlo cosa dobbiamo fare? purtroppo alla fin fine col denaro è un'operazione che le società che distribuiscono i film hanno a che fare noi rientriamo un po' in questo circolo non tanto virtuoso che devi fare soprattutto se non sono personaggi molto grossi alla fine lo sede e tu nel caso di Dragon Ball hai doppiato più personaggi che tuttavia comparivano a distanza di molto tempo nella saga e con toni molto diversi ti sei adattato bene ad ogni personaggio i personaggi sono Shu il capitano Ginyu il presentatore del torneo di Cell Borjak, Donkir e Bardak il padre di Goku ce n'è uno in particolare che preferisci? allora guarda io mi ricordo di Bardak il padre di Goku anche perché era presente nell'ultimo film che abbiamo fatto non cioè era una cosa di pochi minuti però c'era e quello me lo ricordo bene e anche gli altri non vorrei fare la figura di quello con l'Alzheimer però dovrei vedere i disegni e allora ti direi ah ecco quello me lo ricordo solo che facendo in questo modo non so se passo per presuntuoso per rimbambito per non so per il sogno beh posso provare a descriverli magari ti vengono in mente prova vai bene il capitano Ginyu è quello che fa le pose il capo della squadra Ginyu che fa le pose di combattimento e scambia i corpi con le altre persone scambiò il corpo con Goku nelle puntate no? niente? zero? a posto l'hai dottato anche recentemente in Dragon Ball Super che stava nel corpo di una rana ah beh hai ragione Andrea però è un disastro tu mettiti nei nostri panni entriamo usciamo dalle sale siamo catapultati tre ore prime in una cosa comica poi in una cosa drammatica e io capisco che un appassionato si ricordi benissimo io purtroppo purtroppo non me lo ricordo no? non ti preoccupare capisco perfettamente tranquillo nel poi non è un problema anzi non vorrei aver messo a disagio con questa domanda no? figurati non vorrei passare io per matto rispetto ai fan rispetto a chi è appassionato a questo genere di prodotto hai capito? no? non ti preoccupare anche perché pure Riccardo Peroni diete una risposta simile o Riccardo è peggio di te di sicuro Riccardo è messo è messo peggio di me sicuramente queste cose e allora prendiamo un'operazione specifica a prescindere da come è stato accolto da critica e pubblico Edrien di Adriano Celentano è stato un progetto d'animazione particolarmente ambizioso nella sua realizzazione tu hai doppiato il capo del governo uno degli antagonisti principali della serie ci racconti la tua esperienza cioè come è stato lavorare con Adriano Celentano e cosa ne pensi del personaggio che hai doppiato? allora guarda intanto lì non era più doppiaggio ma era una specie di radiodramma nel senso che come negli Stati Uniti noi abbiamo fatto una pista sonora su cui poi ha lavorato Milo Manara per i disegni per cui noi avevamo una specie di storyboard non avevamo l'animazione davanti è stata fatta dopo devo dire che lavorare con Adriano è stata un'esperienza piacevolissima lui è uno che ha le idee chiare a volte per l'amor di Dio a volte opinabili a volte non eravamo d'accordo su determinate cose ma comunque lui sapeva quello che voleva e mi sono divertito a fare il capo del governo perché era un cattivone vabbè non spoileriamo poi come va a finire anche se penso l'abbiano un po' visto chi ancora magari la vorrà rivedere se mai andrà in onda di nuovo mi ha divertito mi ha divertito perché non era il solito super mega buono eccetera eccetera mi spiace che ci sia stata tutta questa polemica questo shitstorm su tutta quanta l'opera perché so quanto Adriano ci tenesse e quanto ci ha lavorato noi come doppiatori credo che ci abbiano lavorato dei signori professionisti per cui ci abbiamo messo tutto noi stessi è andata come è andata eh sì è un vero peccato perché di base l'idea era interessante non poco perché molta gente secondo me è stata creata forse un po' troppa aspettativa per cui poi alla fine la gente si divertiva a smontare la cosa non vorrei magari tirar fuori delle opinioni strane però sono andati talmente a bombardamento a tappeto mesi prima su questa cosa qui poi forse l'approccio iniziale di fare una specie di cappello con lo show dove lui ha deciso di non partecipare per motivi suoi la gente voleva vedere lui una cosa e l'altra insomma un po' mandato a Ferrari e il castello di Carte però vabbè può piacere o non piacere io ho trovato una cosa originale se non altro sì io adesso spoiler la mia opinione su Eden anche se in realtà ci avevo già fatto un piccolo pezzo nel video su YouTube io non non la considero perfetta penso che abbia molti difetti però penso che abbia anche dei pregi interessanti su certi discorsi e su certe parti anche se comunque non la trovo per niente perfetta capisco certe critiche però tutto questo accanimento mio Dio c'è molto di peggio cioè nell'arte televisiva e cinematografica quindi non lo so adesso verranno i commenti a distruggermi però vabbè fa niente allora guarda io da doppiatore ti dirò che se avessi potuto lavorare sui sui disegni e sulle scene già fatte so che avrei potuto fare molto meglio perché avrei potuto incollarmi invece così io ho fatto delle cose io e gli altri abbiamo fatto delle cose al buio su cui poi hanno disegnato delle facce con dei battiti che per mia deformazione professionale a volte non corrispondevano questa è una mia deformazione da professionista per cui va bene così comunque e passando a un altro svolto che riguarda un tuo doppiaggio però per quanto riguarda un'opera che è arrivata al cinema non mi tirano fuori ancora cose strane che non mi ricordo le citture barbine però questo riguarda un tuo personaggio famosissimo ed è un film che è uscito nelle sale a gennaio del 2015 ovvero il film dei Cavalieri dello Zodiaco in 3D ok ok questo va bene ok allora tu sei la storica voce di Sirio il Dragone personaggio appunto dei Cavalieri dello Zodiaco da molti anni quando uscì in Italia il primo film d'animazione in 3D ovvero la leggenda del Grande Tempio si pensò di trovare nuovi doppiatori perché la storia iniziava da capo ed i protagonisti erano nella loro versione più giovane ma i fanni italiani hanno insistito a forza affinché le voci storiche di personaggi tornassero compreso la tua cosa che stiamo parlando di questo film uscito al cinema sì sì di questo film appunto tu che cosa pensi di questa cosa cioè c'è stato un momento in cui hai pensato però forse potrei lasciare la palla a qualcun altro o sei stato immediatamente felice di questa scelta io quando vengo scelto per una cosa sono contento devo dire che all'inizio era un po' stranito dal fatto di dover dare la voce comunque a un personaggio molto più giovane di me poi se l'hanno voluto dalla dalla base da chi conta e se sono stati contenti del risultato va bene così ah bene bene quindi quando hai pensato questa cosa sei partito appunto grintoso professionalmente dico la mia voce su comunque un ragazzo mi fa strano però se piace così va bene così parlo contro i miei interessi naturalmente certo e tu hai lavorato anche per il cinema ultimamente hai lavorato con Fabrizio Lamonica che io ho definito più di una volta uno dei migliori registi italiani moderni che ci siano attualmente perché sui film infatti tu sei la voce dell'antagonista principale nel film Il buio del giorno un thriller italiano per cui si sta combattendo affinché arrivi nelle sale cinematografiche dopo la fine di questa pandemia come è stato lavorare con Fabrizio Lamonica e perché hai deciso di prendere parte al progetto tanto Fabrizio un po' per volte è diventato un amico per cui già già ci tengo a dire questa cosa ho deciso di partecipare al progetto perché mi sembrava quando Fabrizio me l'ha proposto interessante ho visto le sue cose precedenti le ho trovate molto belle molto piene di cose da tirar fuori e se nel mio piccolo posso dare una mano mi sembra quasi una roba da presuntuoso però posso partecipare a un progetto indipendente che comunque mi sembra abbia delle potenzialità mi ci sono buttato subito ho detto ma perché no e adesso volendo possiamo fare gli stronzi e spoilerare tutta la trama del film così Fabrizio ci odia una bomba e beh anche io ci rimane male perché io voglio essere uno spettatore che vuole vedere questo film perché lo attendo particolarmente però fidatevi ve lo dico io è bello 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 bisogna assolutamente muovere di tutto e poi mica ci sono solo io ci sono dei signori attori bravissimi c'è Stivaletti per gli effetti speciali c'è Fabrizio che appunto ho detto prima bravissimo in tutto musiche bellissime è tutto un insieme fantastico bisogna farlo uscire al cinema ma a tutti i costi assolutamente infatti ragazzi parte la campagna andate a conoscere i lavori di Fabrizio e la Monica e sostenete questi progetti italiani perché abbiamo bisogno di cinema italiano che va a fare qualcosa di diverso basta solo con media e dramiche per carità bisogna vederli però ci vuole anche varietà ci deve essere possibilità di scelta soprattutto se in questa scelta c'è così tanta qualità perché Fabrizio e la Monica la ho assolutamente d'accordo Fabrizio allunga 1100 euro ok posso dare l'Iban sotto non puoi digitare tu Fabrizio ci sei? Fabrizio ci ha appena risposto ha detto sei matto Andrei grazie e ti ha scritto questa cosa ecco quello che c'è scritto sullo schermo vabbè ok lo sapevo è solo un come si dice un reminder una cosa da ricordare vabbè te lo fisso qui perfetto ok passiamo ad un'altra domanda riguardante questa professione cos'hai da dire a chi vuole diventare attore? che domandona cos'ho da dire a chi vuole diventare attore in questo particolare periodo storico mi viene da piangere perché tutto ok Italia tutto il mondo però cos'ho da dire metterci tanta 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 passione tanto accadimento tanta voglia di fare non aver paura delle prime porte che ti vengono sbattute in faccia perseverare spiare gli altri ecco una cosa che faccio ancora io nel mio piccolo quando sono in sala spiare gli altri vedere dire ah ma quello ha detto quella cosa lì io l'avrei detta diversamente però cercare sempre di rubare il mestiere agli altri quello secondo me è fondamentale ti tiene accesa la scintilla ti mette la voglia ti lascia acceso un po' lascia vivo il bambino che è in te e niente sai incrociare le dita bene un consiglio preziosissimo grazie veramente e adesso c'è l'ultima cosa da domandare anche se come disse un mio amico più che una domanda è una piccola richiesta per i fan ovviamente se vorrai farla ovvero un saluto una frase con la voce di Batman una frase con questa faccia vabbè si ascolta la voce dovrei fare una cosa qualcosa da mettere davanti cade cade la poesia io lo faccio ma cade la poesia subito non puoi oscurare un attimo non puoi oscurarmi un attimo e tenere solo la voce beh se è quello che preferisci certo prima di tutto però vediamo parla vediamo se si sente io sono la vendetta io sono la notte io sono Batman cioè e io sono questa faccia di merda per dire non abbinate ragazzi non abbinate io mi chiedo sempre ma perché uno vuole vedere la faccia di Bazzarotti ma che si tenga la voce ma chi se ne frega ragazzi vai è meraviglioso e sembra tutta questa parte sembra un misto tra il Batman classico e Adam West per come è finito io tanti anni fa ero in coda col carrello al supermercato e incrocio questo mio ex compagno del liceo con i suoi figli e gli leggo dal labiale intravedo che lui dice a uno dei figli ma sai che lui è Batman e uno dei figli mi guarda e fa ma per cui voglio chi dire basta la parola fine a questo punto è quello che ci vuole quindi tu non scenderesti come ha fatto Kevin con Roy che è stato chiamato per fare un brusue in anziano non lo faresti? ah no ma io sono una voce nel buio io devo rimanere nel mio stanzino buio con la luce che batte sul copione sul leggio e la mia dimensione è quella cioè io ti dicevo già prima nel backstage sono un po' a disagio a far vedere la mia faccia brutta non ha non ha senso no mi conoscete come voce secondo me cade anche un po' la poesia sbaglio quindi anche per questo che hai voluto puntare soprattutto sul doppiaggio è stato un caso perché in realtà ero in compagnia con questa doppiatrice allora già abbastanza famosa che mi ha un po' gasato dicendo hai una bella voce perché non provi erano gli anni 80 ho cominciato mi andava bene c'era tanto lavoro per cui anche se non ero il massimo della vita se ero grezzissimo se lo facevano piacere sono riuscito un po' a smussarmi a diventare bravino tra virgolette e va bene così per cui sarei anche bugiardo e anche falso se dicessi ma no ma io avrei voluto fare disfare la vita mi ha dato tanto va bene va benissimo così solitariamente bene mi fa molto piacere che lei sia riuscito a diventare doppiatore perché ha potuto è l'abitudine chiedo scusa e ragazzi se voi avete visto le domande scritte con il lei è perché io già partivo del fatto ecco adesso io do del lei invece è partito con questo tono amichevole dicendo dammi del tuo io sono felicissimo perché è ancora più comodo posso levarci del voi come i conti il marchese e il conte così la facciamo ancora un po' più vogliamo trasformare questa intervista in una bella in una bella commedia tra marchesi in pratica dittemi o Andrea porgete la domanda a cui io sarò lieto di rispondere con grazia vorrei porgerle la domanda signor Marco Balzarotti però c'è un piccolo problemino ovvero che le domande sono finite l'intervista è finita ti ringrazio tantissimo della tua disponibilità grazie alle persone di averci guardato anche se adesso altre persone arriveranno per vedere l'intervista dopo appunto alla fine della diretta grazie sia a quelle persone che sono arrivate dopo sia a quelle che ci hanno seguito grazie veramente a tutti e ringraziamo soprattutto il mitico Marco Balzarotti quello che riesce a volare per i tetti e a salvarci dai criminali con la sua voce da Batman adesso prendo il farmaco per l'artrite reumatoide e poi mi rilancio di nuovo ok allora un saluto a tutti ciao ragazzi ciao ciao ciao